Sembrano scene di un film poliziesco con tanto di spadatori in seguimento ma poteva finire in tragedia per un gruppo di ventenni e residenti della zona. Cinque arresti nella notte tra sabato e domenica a piani d'archi. È fallito il colpo della banda composta da cinque pugliesi, uno era il basista locale residente a Casoli. I carabinieri li stavano aspettando, un vero e proprio postamento in borghese tra le case in via nazionale. I militari dell'arma hanno atteso che i banditi inserissero la cosiddetta marmotta dentro lo sportello esterno dell'ufficio postale dopo aver sfondato la vetrata. Poi sono usciti coi mitra in pugno. Sulla scena del crimine si trovavano inconsapevolmente anche quattro amici di Selva di Altino appena usciti dal bar Zappacosta. In tre erano andati a prendere la barista che aveva finito il turno quando si sono trovati davanti degli uomini coi mitra spianati. Il panico e poi la retromarcia a tutto gas che ha portato l'Alfa 156 con i quattro ventenni in braccia ai malviventi. I militari fanno fuoco e colpiscono l'auto alle gomme sul montante della portiera anteriore destra. Credevano fossero di supporto i banditi. Nel frattempo uno dei malviventi brandisce il Kalashnikov e non si ferma all'alte intimato dai carabinieri che sparano anche all'indirizzo della stilo colpendo il radiatore e l'uomo. La fuga dei foggiani verso Casoli avrà vita breve. Dapprima abbandonano il compagno ferito ad una gamba e l'auto nei pressi dell'incrocio delle quattro strade. Poi fuggono a piedi nelle campagne dove ad attenderli c'era il basista in un casolare con l'auto pulita ma i carabinieri le acciuffano prima. Tragedia sfiorata per i quattro amici di Selva di Altino ma anche per i residenti accanto all'ufficio postale che sulla parete esterna ha due contatori del gas mentre sul retro la proprietaria della palazzina ha una bombola di gas per la cucina. Giunti sul posto alle sei del mattino gli artificieri di Chieti hanno disinnescato la marmotta inesplosa dopo aver evacuato dieci persone nel raggio di una ventina di metri. Le operazioni sono terminate alle nove del mattino. La scientifica ha rilevato e catalogato oltre una ventina di bossoli che ricoprivano quel tratto di asfalto della nazionale. I dettagli sono stati resi noti in conferenza stampa nel comando provinciale dei carabinieri a Chieti con la presenza del capitano di Lanciano Vincenzo Orlando e il tenente Massimo Canali del Norm e il luogotenente Federico Ciancio di Atessa oltre a vari comandanti delle stazioni locali che il colonnello Florimondo Forleo ha ringraziato. Gli arrestati sono tre di Cerignola, Massimiliano Lionetti 46 anni, Armato di Kalashnikov, Potito Diglio 36 e Francesco Red Davide 33 e poi due di Orta Nova, Antonio Cataldo 39 anni e Cristoforo Aguilar 35. Tutti hanno precedenti specifici. I cinque sono accusati di tentato omicidio poiché durante la fuga hanno cercato di investire militari dell'arma e poi porto e detenzione illecita di esplosivi, tentato furto aggravato e ricettazione. Ma la banda proveniente dal Foggiano ha anche altri componenti che vengono utilizzati di volta in volta per i vari colpi. Uno di questi identificato è stato quello messo a segno il 26 marzo scorso e danni della Gelleria Foglie d'Oro all'interno del centro commerciale Lanciano e poi l'ultimo in ordine di tempo l'assalto il primo maggio scorso allo sportello Bancomat della B per Amozzagrogna. Fondamentale è stata l'attività investigativa coordinata dalla procura di Lanciano con i gps installati nelle auto di ignari ospiti di bed and breakfast locali provenienti da Cerignola e Orta Nova evidentemente per fare sopra luoghi prima dei colpi. Perché noi ci troviamo di fronte a bande di rapinatori che si organizzano sul momento in funzione dei colpi da effettuare. Quindi le intercettazioni classiche molte volte non danno tutti gli elementi per determinare dove possono colpire. I gps invece ci localizzano il territorio soprattutto in funzione sopra luogo e ci danno un'idea degli obiettivi probabili. In funzione di quello vengono monitorati con i servizi e si cerca di prevenire perché il problema è l'utilizzo dell'esplosivo nell'assalto al Bancomat.